Signore, servi, portate dentro lo scrigno, questo mi era scritto, un infuso di laudano, eucalipto e miele viabbi italiche, di mia invenzione. Signore, ecco mio caro signore, le presento il clistostepometro alare, una macchina di nostra invenzione, figlio di nostri tempi, ancora da perfezionare, ma prendete dallo scrigno l'unguento degli angeli, l'unico che possa allenire è l'invenitosità del nostro canzino. Vabbè, avete detto un guento degli angeli oppure l'oglio dei santi? No, 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 ma il Gesù arrivai l'oglio dei santi, sovorto, sovorto, venio! Un guento, Tommaso, un guento degli angeli per allenire il dolore delle viscere del Signore. Abbundanziam, discosità, ed insieme, la macchina è pronta. Se il Signore vuol prendere posizione per la funzione... Sì, sì, non vedo l'ora, non vedo l'ora! Non vedo l'ora! Senti, sollevate le vesti del Signore, e voi, Tommaso, mettete in pressione la macchina. Le viscere del Signore saranno contenti di questo trattamento. Le attacchi sono utilizzate da un ambito di diamine, E الصi un disastro e poi d'acqua e poi d'acqua io c'y'y'y'y ma shù io c'y'y'y'y'y'y'y e io c'y'yy'y'y'y'y ma un fono massaggio e io ti s'y'y'y'y'y'y'y'y' ghost piscine si non si s'y'y'y'y'y'y' e poi tra i la fuga sono scato sono scato si se anche se se Grazie per la visione!